I profili social di Maurito Icardi e Paolo Di Bala mostrano volti distesi e sorridenti. Sul campo d'allenamento a Buenos Aires i capocannonieri del campionato italiano scherzano con Messi, Aghero e con gli altri campioni della nazionale argentina di calcio, che è chiamata all'impresa per guadagnarsi il mondiale in Russia l'anno prossimo. Venerdì 1 settembre affronteranno l'Uruguay a Montevideo in una gara da dentro o fuori per l'Albi Celeste, che è indietro nella classifica del girone. Non c'è tensione sul campo, ma il tecnico argentino Jorge Sampaoli chiede a tutti fatica e concentrazione. Bisogna remare, ha detto. Ci giochiamo un match che va a definire la storia di questo paese in vista dei mondiali. Ci giochiamo il tutto per tutto. Sampaoli potrà contare i suoi due nuovi astri nascenti di Bala e Icardi, ma soprattutto su Leo Messi. Il miglior giocatore del mondo è molto importante per me, vederlo allenarsi e vedere come si muove. Se lui sente il bisogno che ha l'Argentina oggi e si presenta con la migliore versione di se stesso, ci può regalare la qualificazione. Al tecnico argentino non mancano gli assi da giocare. Conto di avere un grande attacco e di neutralizzare un rivale molto forte in casa e con giocatori che sanno giocare bene in queste occasioni importanti.